Prevale la linea di continuità amministrativa dell'Ende. Questo quanto emerge dalle urne per il rinnovo della governance del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, ossia un evidente netto consenso per l'attività svolta nell'ultimo quinquennio. Il dato più rilevante è infatti il successo netto registrato dalla lista più bonifica già alla guida dell'amministrazione consortile dal 2019 sulla lista libera bonifica. Altri due poi aspetti interessanti, l'aumento della partecipazione dei consorziati al voto e ancor di più la plebiscitaria risposta dei rappresentanti dei comuni che assieme alla provincia di Arezzo si sono arrecchati al seggio per esprimere la loro preferenza. Sono 2.635 complessivamente i consorziati che hanno partecipato alla consultazione elettorale, oltre 100 in più rispetto alla tornata precedente. Sono stati loro a consegnare la piena vittoria alla lista più bonifica in tutte e tre le sezioni. Riconferma nella prima sezione poi per Serena Stefani, presidente uscente, che ha ottenuto ben 567 voti personali, forte anche il consenso di Leonardo Belpiero, suo vice nel mandato che si sta concludendo. Nei prossimi giorni sarà l'ufficio elettorale temporaneo a provvedere alla convalida degli eletti e alla conferma della composizione della parte elettiva dell'assemblea consortile. Ai nomi dei 15 membri usciti dalle urne si dovranno aggiungere i 12 nominati dal Comitato delle Autonomie Locali e un componente nominato dal Consiglio regionale toscano. L'assemblea, una volta insediata, sarà infine chiamata ad eleggere al suo interno presidente e vicepresidente e terzo componente dell'ufficio di presidenza.